Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Far Cry Primal per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati qua su questo titolo, mamma mia non mi ricordo neanche più l'ultima volta che vi avevo pubblicato un episodio riguardante questo videogame Vi chiedo scusa se vi ho fatto attendere tantissimo, solo che sono stato poi preso da altre serie e quindi Far Cry Primal l'ho messo un attimo da parte Adesso ragazzi oggi se non sbaglio dobbiamo andare ad attaccare l'altro forte, poi non so onestamente che cosa ci sarà ancora da fare Penso che ci sarà probabilmente ancora una missione, quella di andare a uccidere Ull che sarebbe il capo di tutti gli Udam se non sbaglio Però potrebbero essercene anche un altro paio e adesso vediamo Oggi direi di andare intanto a distruggere il forte Perfetto ragazzi l'ultima volta ci eravamo lasciati qua, probabilmente ho ancora un paio di missioni da fare Adesso è da un po' che non gioco quindi devo un attimo ricordarmi i tasti Allora oggi dobbiamo andare ad attaccare il forte urlafuoco degli Zila L'altro dall'altra parte l'abbiamo già distrutto, sì C'è una missione di Saila che dobbiamo andare a completare quindi andremo magari prima a completare questa qua Trova la foglia gialla del nord rara nel territorio degli Udam Sì comunque abbiamo ucciso il mammut, abbiamo distrutto il forte che c'era qua a nord Quindi ragazzi ci sono rimaste solo più poche cose da fare, direi di andarle a fare oggi Ok ragazzi sono quasi arrivato nella terra degli Udam Ok, cogli la foglia gialla del nord rara nel territorio per Zila Allora diamoci un'occhiata in giro Cacchio Mi ha spaventato questo caspita di lupo Eccolo Attaccami Attaccami Ok, uno fatto fuori Due Si è fermato Preso Caspita mi hanno attaccato alle spalle e non mi aspettavo che ci fosse un lupo Ok Perfetto abbiamo recuperato dei materiali Ok, dobbiamo stare molto attenti Allora La foglia gialla dovrebbe trovarsi qua Questa Sì, l'abbiamo trovata Ok Ecco immaginavo, tutto troppo facile Tutto troppo facile Che caspita Attenzione Hull Attenzione Ho visto Hull Tutto troppo facile ragazzi Tutto troppo facile Infatti ci hanno teso un'imboscata Vediamo dove Caspita siamo finiti Ok, c'è un bambino Che c'è Hull Vediamo cosa succede Ah, c'è un altro che è stato catturato Quindi Sangue molle lo dice a qualcun altro Ecco te pareva Lo sapevo che faceva una brutta fine quello là Eh, a me non interessa Ci vuole tipo reclutare? O ci vuole far uccidere da suo figlio? Ah, ci vuole tipo sfidare Sfidare duello Beh, nel frattempo siamo qua Attenzione che ha scuoiato un orso Ammazza Ok, dobbiamo trovare un modo per fuggire Ok, allora Dobbiamo fuggire dalla prigione E sono Senza nulla Qui c'è un cadavere Altre ossa Proviamo ad andare di qua Devo stare attento perché non ho proprio armi Qui c'è Uh, c'è un rampino lì Aspettate però Qua non c'è Non c'è niente C'è qualcosa forse Sì, c'è un rampino Prendilo Lo possiamo usare Ok, ottimo Dov'è? Eccolo lì Allora Dobbiamo riuscire a Far così Ok Devo trovare la mia roba Devo trovare la mia roba Il tizio qua si è già decomposto Questa che cos'è? Una bara Boh Qui hanno seppellito alcuni Udam Allora, aspettate Aspettate però Ok Aspettate Che volevo dare un'occhiata qua in giro Perché mi segnala Mi segnala questi sacchettini Andiamo un attimo avanti Uh, le ho trovate Piano Piano Attenzione Devo prenderlo di sorpresa Eccolo Voilà Oh, finalmente Sono di nuovo attrezzato Ok Dobbiamo stare attenti Perché ho anche la luce del sole contro Mamma mia Che bufera di nero Ok, qui c'è un'altra caverna Caspita Mi sto congelando Ok Meno male che abbiamo trovato una torcia Bella questa missione Molto molto interessante Vediamo cosa c'è qua Allora Là c'è Un Udam Attenzione che mi vedono Lì c'è n'è un altro Preso Ok Perfetto Voilà Con calma facciamo tutto, eh Con calma facciamo tutto Tutto Là c'è n'è uno Lì c'è n'è un altro Aspettate che tiri sulla testa Sta fermo Cacchio Preso Zitto Accidenti Non l'ho fatta troppo stealth Arrivano quelli grossi Eh Non ho guardato bene in giro Muori Ok Devo stare qua all'esterno Dai che questi qua non Non se ne sono minimamente accorti Per il momento Ah l'ho mancato Dai È grosso come una montagna Non va giù Non va giù Ok Ha battuto Ne dovrebbe mancare solo uno Che è là Che fa il furbo Preso Ok Dovrei averli uccisi tutti In teoria In teoria In teoria eh E non me ne ero accorto che ce ne erano altri tre Forse Sapete cosa Ho accelerato troppo i tempi Ho accelerato troppo i tempi Allora questo qui L'avevamo già ucciso Attenzione a non cascar giù Devo sbrigarmi Ok Sono dentro un'altra caverna Caspita Wow C'è uno là in cima In cima In cima C'è uno lì Uno là sotto Uno là di guardia Sì vabbè Dai mi vede Adesso lo tiro giù Oh mancato Eh vabbè Grazie È uno di quelli grossi Dove caspita Ok Ha battuto Oh l'ho beccato al ginocchio Boh si è giocato il menisco Questo qua Ok Questo qui non andrà più agli europei Ragazzi si è giocato il menisco Eh esulta va Che poi vai giù con due frecce Preso Li ho abbattuti tutti Sì No però questo qua è fantastico Si è veramente fatto un Un volo della malora Arriva Preso sulla zucca C'è un altro là Vieni vieni Ciao Ho visto un altro C'è un arciere forse Forse c'è un arciere Non so Mi impareva di aver visto un arciere Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto Allora Carne Che io prendo molto volentieri Perché Non abbiamo più Ma questi che li posso uccidere? Scusate È solo per curiosità Ah proprio così di prepotenza? Wow Che casino che ho fatto Che casino Oh mamma Sono tutti là in cima Qui ho voluto esagerare io Eccolo Il fenomeno Maia Aspettate Qui ho voluto esagerare io Ci piazziamo qua Tanto hanno gente che corre Hanno gente che corre Preso Dovrebbe arrivarne un'altra Questo qui è leggermente Uccidi il guardiano della caverna Ah era quello lì? No Ah l'ho già ucciso così? Beh ottimo Sì ma prendilo però Preso al fianco Via via sto morendo Facciamo retro front Quanto devono arrivare da qua Aspetta un attimo Ok ho sprecato una freccia Devono arrivare qua Dai che si picchiano a vicenda magari Vediamo se funziona sta roba Si picchiano Sì si picchiano Aia Devi picchiare l'altro non me Ui 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 Questo qua è grosso Via 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 Ma è morto? Ah è morto Cioè no non è morto È ancora lì Diciamo che è un po' indeciso Sul da farsi Aspetta Vediamo che salire Hello Sono proprio qui davanti a lei Oh l'ho abbattuto Guardate quante frecce ho dovuto tirargli Sembra quando giochi a minecraft E gli scheletri ti riempiono di frecce Beh li ho uccisi tutti Più di così non potevo fare ragazzi Più di così non potevo fare Ok mi sono preso un po' di roba Ok Inizioni al massimo Questo qui è quello che è volato prima Ce n'è ancora uno Eccolo là Ciao Dai muorito Ti aiuto io a morire va Sì vabbè ma è pieno di gente Il guardiano della caverna Sì è pieno di gente Intanto ci sarà anche sicuramente un Guardalo Cacchio ti nascondi Mi ci vorrebbe un Fucile da cecchino Beh anche così non va Affatto male Ah vabbè ma tanto quelli là sono Sono tipo Abitanti No qui Volevo prenderlo Preso Che mira signori Che mira Dai Ok Ce l'ho fatta per un pelo Mi sono danneggiato Ma ce l'ho fatta per un pelo Ok Arrampichiamoci di nuovo di lì Ma è lunga questa missioncina Pensavo fosse più corta Ecco l'altro arciere Beh due frecce E l'ho fatto fuori Dovremmo essere quasi fuori In teoria In teoria Ok altre due caverne Qui sotto Si scende Ah ce n'è uno là No 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 Pensavo fosse Ci sono dei gas velenosi Quindi non si può andare Almeno in questo momento Non ce la faccio Sono fuori Si ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Nella terra degli Udam Ok ragazzi Cazzin C'è Saila Che abbiamo portato la foglia Che ci ha chiesto Chissà cosa deve farci Ah ok Perfetto Ah ok 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 Tipo un antidoto Fantastico Ok Perfetto ragazzi Ok L'ultima missione Nella terra degli Udam Ingresso Della terra degli Udam Dominata da Ull Perfetto Quindi abbiamo Ancora due grandi missioni Da compiere C'era una missione Dedicata a Urki Qua Però adesso è scomparsa Boh Va bene Direi che possiamo Concludere questo episodio qua Allora Gli episodi che Dovrò registrarvi ancora Di Far Cry Primal Sono due Quindi Uno dedicato a questo forte Il forte Urlafuoco E uno dedicato a Ull E poi dovremmo aver terminato il gioco Ragazzi Come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Far Cry Primal Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio Che è un po' di più Dio E ci vediamo in un prossimo episodio Grazie.